Grazie! 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 Allora, lui è da tanto tempo che fa parte dell'avventura, quante aneddoti potremmo raccontare, ma oggi non abbiamo tempo, perciò io vi presento alla batteria, alla bellezza e a tutto quello che voi immaginate di bello, alla batteria Dario Fiume! E qui al centro per voi, la mente, il creatore di tutti i pezzi che avete ascoltato quest'oggi, nascono tutti da quella testa lì, e sì, lo conosco da anni e anch'io mi chiedo, come sia possibile, ma eppure lo fa, lo fa, ebbene sì! Qui per voi, oggi, Stefano Zunca! Voglio ringraziare quest'oggi tutto lo staff di Merula che ci ha ospitato qua, Stefano Al Mixer e tutti i ragazzi che hanno fatto le inquadrature, che stanno trasmettendo, perché anche loro fanno parte dello spettacolo, anche loro fanno parte dell'ambiente musicale, anche loro come noi vogliamo e dobbiamo continuare a lavorare e speriamo che tutto questo, la nostra voce prima o poi, arrivi per ritornare a fare dei concerti in giro. Grazie a voi, grazie a voi ragazzi, è un piacere lavorare con i miei progetti, siamo ancora qua! Grazie Marco, grazie ragazzi, veramente! Grazie a voi, grazie a voi, da te ancora di averci ing Cle dated e la vostra musica, in questo poveretto, e quindi vi entrerà in contenuto il pomeriamo... Ma non con me le�i ricordate che Merula è aperto anche domani e mi parla il tempo... Quindi stavamo dicendo Non facciamoci del male questa notte amore Non facciamoci del male questa notte Lascia stare, basta paranoi che siamo come noi ci pare Noi non siamo questa notte ancora da portare Noi non sono questa notte amore Grazie Il prossimo brano che è l'ultimo e vi salutiamo Si chiama Assieme alla Luna Grazie Grazie Grazie